Una vastese dal grandissimo cuore batte 1-0 il Trastevere, seconda forza del girone, ed allontana sempre di più la zona calda della classifica. Agli Aragonesi basta un gol del solito Alonzi al quinto centro in campionato. Squadre con il 4-3-3 a specchio ad inizio gara. D'Addario si affida a Daniello come play mentre in avanti a Darmanforte e ad Alonzi ci sono Alessandro a sinistra e Panaioli a destra. Mister Mazza dà le chiavi del gioco a Proia mentre in avanti le sortite offensive sono affidate a Monni, Squersanti e Corsetti. Fischia Giorgio Bozzetto di Bergamo. Sin dai primi istanti il Trastevere a fare la partita con giocate di prima e molto veloci. Da una di queste parte l'avanzata solitaria di Crescenzo che approfitta anche di una lettura difensiva maldestra di Diallo ma il numero 8 dal limite non trova lo specchio della porta. La vastese prova a sorprendere la formazione capitolina con l'ancilunghi a scavalcare la difesa sfruttando i tagli in profondità di Alonzi ma l'attaccante è spesso lasciato solo dai suoi compagni in fase di rifinitura. I padroni di casa però prendono le misure al Trastevere che inizia ad arretrare il proprio baricentro e da 5 dal 45esimo trovano la rete del vantaggio. Alessandro recupera il pallone e impegna a terra sul primo palo il portiere Semprini con la difesa che poi si rifugia in corner dagli sviluppi del calcio d'angolo. Dopo un batti ribatti Alonzi sotto misura a trovare la deviazione vincente nell'angolo basso alla destra del portiere. Gioia per lui che festeggia così il terzo gol consecutivo. Ad inizio ripresa mister Mazza manda subito in campo Magri arrivato di recente dal Ravenna per squersanti. Come ad inizio gare il Trastevere chiude la formazione di casa nella propria metà campo ed è ancora Crescenzo a provarci dal limite con una conclusione al volo che però risulta piuttosto sbilenca. Il tecnico ospite non è soddisfatto dei suoi così toglie dal campo anche Monni per insurire Fioretti ma è la vastese a sfidare il gol del raddoppio bene Alonzi a liberarsi in profondità una volta girato il diretto avversario calce a giro ma lontano dalla porta. Ancora i padroni di casa pericolosi che sfondano sulla fascia di sinistra con l'1-2 volante tra Alessandro e Diallo con l'attaccante che al momento del tiro viene contratto in corner. Mister D'Addario nel finale di gara non vuole correre rischi ed inserisce Allegra per irrobustire la difesa il Trastevere però non ne ha più e così la vastese dopo 4 minuti di recupero può festeggiare il terzo successo consecutivo in campionato. Ora per festeggiare un buon Natale bisognerà battere anche il Porto d'Ascoli. Mister una vastese che ha un grande grandissimo cuore e porta a casa un risultato contro una squadra tostissima. Una squadra forte, una squadra che potenzialmente è ancora prima in classifica o seconda, una squadra che ha il secondo miglior attacco del campionato, miglior difesa del campionato con otto gol. I numeri parlano chiaro. Noi abbiamo fatto una prestazione molto attenta dove sapevamo che non potevamo sbagliare una palla e sapevamo che dovevamo realizzare con una o due occasioni che ci capitavano. Siamo stati bravi e fortunati. Si è arrabbiato molto in panchina ma si è arrabbiato perché sicuramente abbiamo visto che voleva spronare i suoi giocatori a dare quel qualcosa in più che oggi serviva tantissimo. Mi sono arrabbiato perché con questa squadra qui non puoi giocare palla dietro o palla laterale, devi giocare sempre palla in avanti, devi giocare come loro. Loro ti pressano e tu devi andare a prolungare la palla, quindi attaccare gli spazi in profondità. Nella prima mezz'ora non l'abbiamo fatto e siamo andati in difficoltà perché loro non ci hanno fatto uscire quasi mai. Parliamo un po' anche di questo mercato che si può chiudere tra poco, che cosa potete attingere, che cosa potete trovare sotto l'albero di Natale? L'albero di Natale io ancora lo devo fare. Ancora non ho tempo per farlo e quindi non ho niente né l'albero né i... Nemmeno la letterina a Bobbo Natale? Neanche la letterina perché so scrivere poco, scrivo in inglese e non so se mi capisce. In inglese cosa scrivere? Goodbye, solo goodbye, così ciao e ci rivediamo a Natale a casa. Però c'è una partita fondamentale adesso perché si va a giocare a Portodascoli, si potrebbe chiudere un ciclo importante per la vastesa. Il mio Natale è questo, quindi dobbiamo andare tra tre giorni con la rivelazione del campionato, una squadra che gioca in un certo modo, in un campo di un certo tipo, quindi grande, però lavorano tutti quanti, quindi è una squadra molto temibile. Per lunghi tratti avete anche fatto la partita, poi alla prima occasione la vastesa vi ha punito e poi non siete riusciti più a rientrare anche se ci avete provato. Sì, diciamo che penso che siamo partiti forti, i primi 20-25 minuti abbiamo avuto diverse situazioni dove potevamo e dovevamo fare meglio. Poi chiaramente l'episodio su una palla inattiva ci ha un po' condannato, diciamo poi abbiamo avuto il predominio, non è mai semplice con una squadra che si difende con dieci giocatori sotto la linea della palla dopo il vantaggio cercare gli spazi. La sconfitta che vi fa scivolare un po' il classifica rispetto alla Reganatese che ha vinto a Castelfidardo, c'è da riorganizzare un po' le idee o è solo un momento così di risultati? No, vabbè, ma la classifica come non la guardavamo nel momento in cui eravamo in testa non la guardiamo adesso. Ci soffermiamo credo un po' più sulle prestazioni che non stanno mancando in questo periodo perché credo che anche oggi la squadra la prestazione l'abbia fatta. È un po' un momento, direi anche un po' sfortunato negli episodi, però chiaramente cercheremo di analizzare al meglio delle situazioni e cercare di fare meglio già a partire da mercoledì.